non migliorerà. Siamo allo sport, il calcio resta a bocca asciutta, il crotone sia di punti che di gol contro un Cagliari che inaugurava il nuovo stadio, i rosso-blu rimediano la seconda sconfitta della stagione. Il servizio da Cagliari di Alessandra D'Angio. Buona la terza, anzi la prima per il Cagliari che nel giorno del debutto nella nuova e attesa Sardegna Arena si regala la prima vittoria della stagione dopo le due sconfitte rimediate a Torino e Milano. Avevano bisogno di tornare a casa i rosso-blu per ritrovare pubblico, punti e anche quella solidità necessaria per superare il primo scontro diretto con il crotone che resta ora indietro a un punto e zero gol dopo due test salvezza. A Cagliari invece nel giorno degli esordi con Pavoletti, ultimo arrivato sull'isola in campo dal primo minuto, a decidere la gara ci pensa la vecchia guardia. Porta la firma di Marco Savi il gol che arriva al 34esimo di un primo tempo comunque dominato dai Sardi. Si rivede soltanto alla ripresa il crotone che prova a trovare porta e pareggio senza fortuna. È il giorno del Cagliari della sua festa e dei suoi primi tre punti. Oggi per la verità abbiamo regalato un tempo nell'interpretazione perché per certi versi siamo un pelo avanti rispetto allo scorso anno, per altri no perché sono arrivati giocatori con caratteristiche diverse. Io sono convinto che appena completeremo l'integrazione di tutti quelli che sono arrivati e il recupero di alcuni giocatori che per noi sono ugualmente importanti, potremmo avere un'identità e competere.